Ciao ragazzi siamo qui in corte sconto per la seconda settimana consecutiva della consegna a domicilio corte sconto delivery però prima di tutto igienizziamo le bottiglie per essere sicuri che consegniamo tutto in sicurezza con la nostra prodotta igienizzante quindi vuol dire che siamo attenti alla cura dei nostri clienti comunque ragazzi vi faccio vedere in faccia ciao alla prossima